Voglio condividere con te, quello che è rimasto tra di noi, non portarti indietro adesso, nei tuoi occhi il mio riflesso, voglio condividere con te. Voglio condividere con te. 25. 25, hai preparato i regali, lo so, non te lo chiedo più. Non è vero. Ma hai detto una bugia allora? Ma hai detto che li avevi preparati? No, prima ho detto di no. No, prima, due giorni fa hai detto di no, ma in due giorni devi preparare i regali. Adesso, in otto giorni dai, pensaci bene, un bel regalo grande per il nonno. Allora amici, siete pronti questa sera, ore 21, quattordicesima puntata di Musica della nostra vita a varietà con la grande Marianna Lanteri. Adesso un po' di musica così prendiamo già l'orecchio, ci facciamo l'orecchio alla sua grande voce, Marianna Lanteri. Un po' di musica così prendiamo in tutto il nostro territorio. La mia storia di spazio è colpso la sua parte di uscola. Un po' di musica così prendiamo giro da quella di uscola di uscola. Un po' di musica. Un po' di musica. Un po' di musica. Primo non amare, non pensare razionale, che l'amore razionale non è mai Secondo tieni fede alle parole, la fiducia non tradire, perché non perdonerei Portami via dove il cielo è più blu, dove si può restare a guardare Il mondo a testa in giù, portami via dove tutto si può L'amore può Rimini Dubai Deci giorni soltanto per noi sole di Dubai Tra le palme il sogno di noi Rimini Dubai Terzo non cercare di cambiarmi, cerca solo di capirmi e di amarmi più che mai Quarto lascia andare le emozioni, toglie al cuore tutti i freni per mostrarti come sei Portami via per un tuffo nel blu, dimmi in tutte le lingue ti amo Portami via perché tutto si può, l'amore può Rimini Dubai Deci giorni soltanto per noi sole di Dubai Deci giorni soltanto per noi sole di Dubai Tra le palme il sogno di noi Rimini Dubai Sogni messi in fila come perle di collana Cadute dalla luna e arrivate fino a noi L'amore è quello vero, non si frena, non si fermerà Non si fermerà, non si fermerà Rimini Dubai Deci giorni soltanto per noi sole di Dubai Dubai, ai, 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 ai Tra le palme il sogno di noi Rimini Dubai Dai, ai, 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 ai Deci giorni soltanto per noi sole di Dubai Dai, ai, 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 ai Tra le palme il sogno di noi Rimini Dubai Rimini Dubai Rimini Dubai E questa era la nostra Marianna che questa sera, mi raccomando, ore 21 arriva sul palco di musica della nostra vita, Varietà Questa sera ci guardi? Non lo so Non ha detto non lo so Eh, ma lei sapete, lei alla sera si mette il suo tappetto da ballo in casa Prepara YouTube e poi via musica tutto volume Si sente birbirbirbom birbirbirbom e lei balla, salta Eh, brava, però ha questa grande passione Io sono veramente contento il babbo un po' delle volte si lamenta che vuole vedere la televisione non gli fai vedere niente ma adesso noi andiamo avanti perché c'è un altro bellissimo brano di musica alla nostra vita a varietà di Marianna Lanteri che arriverà proprio questa sera ma prima della musica cosa c'è Alice? Lo sport della vacanza Lo sport della vacanza, hai imparato, vai! Amici, io e Novella siamo qua per ricordarvi un appuntamento importantissimo la nostra nuova vacanza 2024 che dal 2 al 9 giugno andremo nel Salento in Puglia alla Giurlita questo villaggio straordinario allora qui vedete i numeri telefono di Tropico Latino la nostra agenzia di Stefania e Marco voi per qualsiasi cosa chiamate questo numero qui vedete tutto il prezzo compreso di viaggio all inclusive nel villaggio e soprattutto con la presenza non poteva mancare la presenza di Andrea e Nicole Nirea Danze perché lo sapete e con Andrea e Nicole c'è un grandissimo rapporto e queste saranno le nostre belle giornate poi ricordatevi tre escursioni fantastiche Santa Maria di Leuca Gallipoli e soprattutto andremo a visitare la tenuta di Albano Carisi allora mi raccomando la nostra nuova vacanza Novella cosa diciamo? Vi aspettiamo! Numerosi! Gruppo Bergamini vi aspetto alla giurlita Grazie a tutti! non ci lascia più sognare non ci fa mai respirare fino a togliere il sorriso sopra il viso di un bambino siamo sempre in cerca di qualcosa che senso non ha guardo tutto ciò che gira intorno quel che vedo non mi piace io non riesco a darmi pace vince sempre l'egoismo chiusi dentro al nostro mondo e la vita intanto passa e non si torna indietro mai voglio un mondo che sia azzurro mare così limpido e profondo da potermi ci specchiare un prato verde dove correre felice e perdifiato e sentirsi innamorare di noi voglio che sia sempre un po' Natale e stupirci per la neve bianca che scende sul cuore un sole che sia rosso fuoco nel tramonto della sera e riacceda la passione in me io voglio un mondo a colori penso che dobbiamo ritrovare il piacere di ascoltare e stringere una mano per sentirci più vicini ritornare un po' bambini e cantare ancora insieme una canzone senza età guarda quanto è bello questo cielo lo dobbiamo riscoprire ci dobbiamo risvegliare e capire tutti insieme quanto sia così preziosa questa vita che pian piano stiamo ormai gettando via voglio un mondo che sia azzurro mare così limpido e profondo da potermi ci specchiare un prato verde dove correre felice e perdifiato e sentirsi innamorare di noi voglio che sia sempre un buon Natale e stupirci per la neve bianca che scende sul cuore un sole che sia rosso fuoco nel tramonto della sera e riacceda la passione in me io voglio un mondo a colori un mondo a colori io voglio un mondo a colori abbiamo finito la settimana Alice tornerai più avanti perché secondo me gli amici sono stati contenti di vederti dai fanno il promesso guarda l'obiettivo è di tornerò prima o poi tornerò prima o poi prima o poi poi mezzo 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 bravalissima allora noi vi aspettiamo questa sera alle ore 21 mi raccomando carichi più che mai con la grande Marianna Lanteri per le nostre piloline noi ci vedremo lunedì per continuare a parlare di Marianna ma soprattutto sono contento di annunciarvi che mercoledì 9 di febbraio per la prima volta a Teleromagna nei miei programmi televisivi arriverà Gianni Drudi ragazzi abbiamo già preparato i brani e ne vedrete delle belle tutto questo venerdì 9 di febbraio noi ci vediamo tra poco questa sera sintonizzati con musica la nostra vita varietà un abbraccio a tutti amici ricordatevi che io voglio te si io non so cos'è quest'ansia che c'è in me non mi da respiro non mi lascia mai come una mania non mi da tregua mai forte il desiderio però che ho di te ti cercherò non mi arrenderò fino in cielo ti raggiungerò luce tu sei dell'anima mia senza te io so che non vivrò questa notte non finirà mai volerò oltre la mia follia sulle rive del cuore starò raccogliendo anche tutti i tuoi no ma voglio te solo te io non so cos'è ma non resisto più all'idea che tu non sia qui con me forse è una pazzia ma non mi fermerò fino a quando tu sarai la mia poesia ti cercherò non mi arrenderò fino in cielo ti raggiungerò luce tu sei dell'anima mia senza te io so che non vivrò questa notte non finirà mai volerò oltre la mia follia sulle rive del cuore starò raccogliendo anche tutti i tuoi no ma voglio te questa notte non finirà mai questa notte non finirà mai sulle rive del cuore starò raccogliendo anche tutti i tuoi no ma voglio te solo te solo te grazie a tutti i tuoi no